Le foto le avevano catturate dalla macchinetta fotografica che è connessa al computer, il computer le rinomina automaticamente e le sentiamo direttamente sul computer senza bisogno di passare per il telefono, eccetera, eccetera. Se dovessimo sbagliare, interveniamo manualmente rinominando la foto e rifacendola, sempre tramite il computer. Le foto le scattiamo dal computer che ha fatto dalla macchinetta, la macchinetta è solo il nostro bilancio combinativo. Allora, tramite la fotocamera che è collegata al nostro pc, scattiamo la foto che viene non memorizzata però sulla fotocamera invece sul computer e dal computer viene subito la foto sincronizzata su una cartella oppure su un cloud, se volendo. Tramite un programma, tramite un programma, catturiamo la foto e la rinominiamo come vogliamo noi, automaticamente, quindi possiamo per esempio partire da C1 fino ad arrivare progressivamente a C100 per esempio. Nel caso in cui si faccia un errore possiamo intervenire manualmente e rinominarla in modo che vogliamo e comunque si tratta di un qualcosa di progressivo e di conseguenza non possiamo sempre intervenire manualmente. anche se si tratta di un intervento solo a livello di stracolo in cui facciamosi un errore. Successivamente poi nell'altro pc, questo, nell'altro pc, lavoriamo a livello XM, di conseguenza segniamo tutte le cartoline, con il testo, con l'autore, con le date, con il mio dicendo.